Oggi cerchiamo la sicurezza il classico, che per le nostre lamine risulta comunque mai scivolato prima. Gli ampi pendii sottostanti la cima sforniò i nord, ci attendono. Scartata l'ipotesi, croce della giovane montagna, puntiamo alla forcella piccola di Sforgnoi. Trascorso congro tempo in forcella, partiamo alla caccia della bianca e virginale Mantella. Solo sotto le tavole si sentono gli ostacoli. Sarà un problema godere del morbido curvare, dove il biancore tutto appiattisce. Sforgnoi Qua in basso qualche ombra ci facilita ed ora fieri ci raccontiamo come siamo riusciti a cavarcela lassù ma davvero senza nessun dolore L'es Lun il 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 è Grazie a tutti.